Abbiamo questo cuscino e abbiamo dei segnali stradali. Andiamo a fare un lavoro di piegamento di arco di stabilità in appoggio instabile. È un lavoro di forza assoluta. Va a coinvolgere tutti i muscoli del corpo, tutti i muscoli che servono nella pedalata. È un esercizio molto completo. Dobbiamo metterci in posizione eretta, in equilibrio su una sola gamba. Andiamo a fare una flessione del ginocchio e quando ci siamo messi in posizione più abbassata con la stessa mano della quale abbiamo piegato la gamba andiamo a toccare i coni attorno a noi. Una volta che abbiamo toccato un cono ritorniamo in posizione eretta e ripetiamo per il cono successivo. Questo esercizio è importantissimo perché oltre a coinvolgere tutti i muscoli utilizzati nella ciclismo, nel mountain bike, va anche a rafforzare le articolazioni, i tendini e tutto ciò che vi serve per ottimizzare la pedalata.